Ciao a tutti, oggi vi porterò con me a Roma, all'andeprima del film La mia seconda volta. Siamo arrivati ad Ancona e c'è lei. Ora c'è anche il treno, saliamo e ci rivediamo quando siamo arrivati a Roma. Siamo arrivati a Roma, ora andiamo all'hotel. Andiamo a far pranzo, poi andiamo un po' in giro. Siamo arrivati in hotel e davanti al nostro hotel abbiamo KFC, cioè non dico altro, non dico altro. Questa è la stazione, ciao. In cima, cioè lì sotto abbiamo KFC e là la stazione, bella. Siamo stati al Colosseo e ora stiamo andando alla Fontana di Trevi, insieme a lei sempre. Siamo in metro, andando all'anteprima, che bello. Non vedo l'ora, che ansia quella per terra dopo. Siamo arrivati a Luci, a dove c'è, 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 parliamone. Ciao. Ciao. Dicendo da questa mattina, ispirata ad una storia vera, di una mia amica che è Giorgia Delusiglio, che 17 anni fa ha deciso e ha scelto per provare qualcosa, tanto mezza pasticca non fa niente, di prendere mezza pasticca di extra. Questa cosa ha portato in lei uno sconvolgimento nella propria... Un attimo, io voglio ringraziare, ragazzi, perché qui ci sono tanti amici dei Salesiani, voglio ringraziare la banca, banca macerata, ragazzi, di casa mia. Senza che io non abbia mai fatto questo film. Quindi, un saluto a tutti, siamo molto contenti di aver sponsorizzato questo film, siamo molto contenti di aver dato la possibilità a un attore e produttore giovanissimo di affermare il suo talento. Mi fermo qui perché il film incongue, grazie a tutti, buona visione e buon lavoro al studio. Io voglio però ringraziare il regista Alberto Gempi, il sceneggiatore Patrizio Rossetti, tutto quanto il cast, ragazzi, meraviglioso, la distribuzione del film è da uno spazio a Federico Picchi, non rica nessuno, cioè che ve ne dica bene. Ciao ragazzi, grazie. Stiamo andando? Ho gli studi, gli amici e niente, lei non mi si caga. Stiamo andando in stazione e niente, ora riprendiamo il treno. Siamo arrivati, questa breve vacanza, se si può chiamare così. Sono ad Ankuna e ora mi verranno a prendere e tornerò a casa. Siamo arrivati, ciao.